La bassa padovana e i Colli Uganei nascondono molte storie, alcune di queste sono state dimenticate, come quella delle cave che 50 anni fa minacciavano questo splendido ambiente. Spesso vado a camminare, vado per gli argini e mi piacciono questi spazi aperti, infiniti, distesi di campi, quindi mi sono ossessionata a cercare dei momenti unici da prendere con la macchina fotografica. Quello che guida un restauratore è la passione, la ricerca, la salvaguardia del bene che ti viene affidato. Io sono molto felice e convinta di vivere e rimanere qui. È bello portare avanti la passione che si ha, portarla avanti nel territorio in cui si è nati e in cui si vive.